È stata una buona partita, ho visto i ragazzi soprattutto all'inizio, nei primi 20-25 minuti un po' più sciolti, un po' più liberi anche con le gambe. Infatti secondo me abbiamo fatto molto bene la prima parte della partita, poi dopo qualche errore si faceva un po' fatica a gestire la palla. Ci siamo un po' abbassati e abbiamo permesso loro di prendere campo anche senza creare tanto. Quindi siamo stati anche abbastanza bravi a livello nella zona centrale del campo a non farli entrare, magari abbiamo concesso qualche situazione esterna. Però penso che a una squadra come il Poggi Bonsi che è tre anni, che fa dei grandissimi campionati nel Gironè, penso sia una cosa abbastanza normale. Comunque grosse parate del nostro portiere non ne ho viste, però ovviamente c'è sempre da migliorare, non siamo ancora nella condizione migliore per poter esprimere durante l'arco dei 90-100 minuti un calcio come vorrei. Però è importante che questa squadra sappia anche soffrire in alcuni momenti della partita e anche magari chiudersi e poter ripartire. Abbiamo giocatori di gamba che lo possono fare, che se stanno bene possono fare veramente male. È ovvio anche col passare dei giorni, delle settimane, la conoscenza anche dei giocatori stessi tra di loro è fondamentale. Cercare di sfruttare i giocatori per le loro caratteristiche, per un tempo loro ci aspettavano bassi, quindi dobbiamo essere bravi anche non solo a voler palla nei piedi, ma anche attaccare la profondità e penso che l'abbiamo fatto sia con Bacchente che con Ferrandino, l'abbiamo fatto molto bene. Nel secondo tempo con magari, dove ci siamo abbassati un po' di più, con Dimino e Piscitella abbiamo fatto delle ripartenze importanti, sono giocatori importanti e penso che partendo da questi quattro giocatori che hanno determinato oggi, penso che possiamo migliorare, dobbiamo migliorare ancora perché non bisogna mai accontentarsi di quello che si è fatto in questo caso oggi. Piscitella si allenava con Rimini ma non aveva le partite amichevole nelle gambe, mentre Chiesa era a casa a allenarsi con un preparatore atletico e quindi la ruggine, diciamo, di non aver giocato col pallone, sicuramente in alcuni momenti della partita si può vedere, però penso che è un giocatore, è un 2001, che ha grandissima personalità, l'anno scorso ha fatto 13 partite a Reggio dove ha vinto il campionato, è un giocatore che ci potrà dare una grossa mano, mentre Gian Mario lo conoscete, lo conosciamo, è un giocatore di grandissima qualità e anche stasera, nonostante la condizione non ottimale, l'ha dimostrato.